Il reddito a disposizione delle famiglie italiane è ancora inferiore ai valori pre-Covid in sei regioni italiane su 20. È quanto evidenzia un'analisi della Centro Studi Italia Carne e Union Camere sulle stime 2021 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici, una misura della capacità di spesa della popolazione residente in Italia. A fronte di un aumento complessivo a livello nazionale dell'1,5% tra il 2019 e il 2021, a ritrovarsi ancora con una perdita rispetto al 2019 sono in particolare le famiglie di Valle d'Aosta, Abruzzo, Molise, Trentino Alto Adige, Marche e Piemonte. A livello provinciale il reddito disponibile delle famiglie diminuisce di più a Venezia, Rimini, Fermo, L'Aquila e Aosta. Sul lato opposto invece, a poter contare su aumenti più elevati di reddito per le famiglie, sono il Lazio, la Lombardia, la Sicilia, l'Umbria e a pari merito la Campania e il Friuli Venezia Giulia. Esaminando il reddito pro capite, è Milano a guidare la classifica nel 2021. Con 33.317 euro a testa, i cittadini meneghini mostrano una disponibilità di portafoglio superiore del 68,6% a quella della media degli italiani. È Enna la provincia meno ricca d'Italia. Produzione industriale in calo per il secondo mese consecutivo in Italia. A ottobre l'Istat stima che l'indice destagionalizzato sia diminuito dell'1% rispetto a settembre. Nella media di trimestre agosto-ottobre il livello della produzione aumenta dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice mensile cresce su base congiunturale solo per i beni strumentali, mentre cala per i beni di consumo, per l'energia e marginalmente per i beni intermedi. Sempre a ottobre l'indice complessivo diminuisce dell'1,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Crescono solo i beni strumentali, più 3,9%, diminuiscono invece i beni di consumo e in misura più marcata i beni intermedi e l'energia. Tra i settori di attività economica in crescita si segnalano la fabbricazione di mezzi di trasporto, la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica. Le flessioni più ampie si registrano nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, meno 7,7%. Giù anche l'industria del legno, della carta e della stampa. Secondo Confcommercio, il dato di ottobre sulla produzione industriale consolida i timori di un sempre più probabile rallentamento dell'economia nella parte finale dell'anno. Aumentano le risorse per l'apicoltura. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato il decreto relativo agli interventi in favore del settore apistico previsti dal piano strategico della politica agricola comune per il quinquennio 2023-2027. Per ogni anno sono messi a disposizione oltre 17 milioni di euro a sostegno di interventi nell'ambito dei servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche per apicoltori e organizzazioni di apicoltori. I beneficiari dei finanziamenti possono essere singoli apicoltori, forme associate, istituti, enti, università o organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura. Per Lollobrigida il decreto, con un aumento di risorse stanziate da 9 a 17 milioni di euro, testimonia l'estrema attenzione che il ministero ripone nei confronti del settore apistico. Un comparto centrale nell'ambito dell'agricoltura italiana, sia dal punto di vista economico, con una produzione nazionale di miele che si attesta attorno alle 18,5 mila tonnellate, sia sotto un profilo di salvaguardia della biodiversità. L'obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat senza incorrere in sanzioni era stato fissato a 60 euro, però praticamente il governo ci sta già ripensando, per cui la soglia presumibilmente si assesterà tra i 30 e i 40 euro. Il tutto partirà comunque dal 1 gennaio 2023 e verrà incontro comunque alle esigenze dei piccoli commercianti ed artigiani e servirà a snellire il lavoro. Operazioni di pagamenti più veloci, di sparmiare sui costi bancari di ogni singola operazione e sono convinto servirà anche agli uffici finanziari che si potranno, dal mio punto di vista, finalmente concentrare su una lotta all'evasione più importante che invece perseguire l'esercente che non ha voluto accettare un pagamento elettronico per pochi euro. Grazie a tutti!